Anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta, seppur in numero decisamente minore rispetto ai giorni precedenti, sono state effettuate le vaccinazioni, ma domenica e ieri sono state giornate contraddistinte dalla totale confusione. Nel giorno di Pasquetta da Tripalda è stato caos convocazioni. Una trentina di anziani erano stati infatti convocati presso il centro di Montoro per la somministrazione della seconda dose del vaccino. Alcuni, seppur spagiantiti, si sono recati a Montoro, altri sono andati invece a protestare al centro di Piazzetta di Donato da Tripalda. Dopo un passaparola infinito e un tantam di telefonate, si è capito che si era trattato di una serie di convocazioni sbagliate. Un disservizio grave che ha finito per generare ulteriore confusione in una situazione a livello generale già difficile per tutta una serie di questioni. Analoghe situazioni si sono vissuti ad Avellino. In questo caso alcuni over 70 hanno ricevuto nella giornata di sabato la convocazione da parte dell'ASL per la somministrazione del vaccino la mattina di Pasqua. Sabato sera a queste stesse persone è stato inviato un secondo sms per informarle che l'appuntamento era spostato al giorno successivo. Una normale e corretta informazione, se la mattina di Pasqua sempre le stesse persone non fossero state raggiunte da una telefonata da parte degli addetti al centro vaccinale del Campoconi per chiedere spiegazioni in merito alla mancata presentazione per la somministrazione della prima dose del vaccino. Alla fine, tra sms sbagliati, telefonati e ore di attesa, i convocati sconvocati sono stati vaccinati. Sicuramente si è trattato di un lieto fine, ma non funziona così. Anzi, il servizio proprio non funziona.